Secondo me meritavamo qualcosa in più perché specialmente poi nel secondo tempo ci siamo stati solo noi in campo e a parte un colpo di testa di Paloschi non ricordo nemmeno un'azione pericolosa del Siena. Mentre noi abbiamo costruito fino all'ultimo secondo e soprattutto siamo stati bravi a mettere continuamente sulla difensiva il Siena che aveva come unica uscita quella di cercare qualche giocata individuale ma hanno fatto veramente fatica. Quindi la prestazione mi è piaciuta molto e sono orgoglioso di quello che sul campo i ragazzi hanno fatto anche in relazione a una squadra che è costruita per vincere il campionato. Quindi per noi è un passo in avanti rispetto alla prestazione di Chiavari perché le sbavature che ci sono state come è normale che ci siano però siamo stati molto solidi soprattutto c'è stata grande continuità di gioco fino al 95. Allora la squadra ha costruito tanto perché anche pronti via all'inizio della partita c'è stato un miracolo di Lanni sul tiro di Malotti. Ora devo rivedere le immagini ma Bernardotto quando è andato giù in area era solo davanti al portiere. Insomma io mi preoccuperei se la squadra non creasse azione da gol invece la squadra crea e non è scontato con le squadre che stiamo affrontando. Perché ripeto il Siena è costruito con grande esperienza con giocatori di categoria superiore qualcuno ha presenze anche in serie A quindi insomma la dice lunga su quelle che sono le ambizioni di questa squadra. E vedere costruire così tanto chiaramente lavoreremo per migliorare ma noi siamo una squadra estremamente giovane che ogni tanto può anche commettere degli errori di frenesia oppure essere poco lucido davanti la porta. Però è un aspetto che miglioreremo ma che non mi preoccupa affatto perché la squadra costruisce e quando costruisce poi alla fine i gol verranno quindi non sono assolutamente preoccupato anzi sono estremamente contento e orgoglioso della prova dei ragazzi perché ho visto tutti i tifosi che ci hanno applaudito a fine partita e la squadra è riuscita a creare entusiasmo nella gente quindi vuol dire che abbiamo creato emozioni e questo mi fa ben sperare. Mister ci dando un po' una reclama del passato due o tre punti in più giocando meno bene di come è fatto in questi 180 minuti Federico Guidi mette la firma? E' chiaro se andiamo a vedere i risultati non posso che risponderti di sì era un'analisi che ho fatto appena sono orientato negli spogliatoi al direttore secondo me il gruppo per le prestazioni che aveva che ha fatto sul campo meritava di avere perlomeno quattro punti e siamo a uno però mi tengo stretto il percorso che stanno facendo questi questi calciatori perché stanno mettendo un campo secondo me tanta intensità e tanta qualità. E quando giochi così poi alla lunga vieni fuori e le partite le vinci quindi io sono estremamente contento delle prestazioni che stanno facendo e oggi siamo migliorati rispetto a quelle sbavature che avevamo commesso a Chiavari. E davanti noi abbiamo affrontato Entella e Siena che sono due delle pretendenti a vincere il campionato domenica ci abbiamo un ulteriore test estremamente complicato con un'altra squadra che vuole vincere il campionato andiamo a Modena e sarà bello vedere ulteriori ulteriori miglioramenti perché sono convinto che questi ragazzi possano dare veramente tanto. Grazie.